Cosa si fa all'aeroporto qua di Erkan? Mi state smettendo? No, no, registro, poi lo mando indifferita questo, questo è indifferita. La rueda de los fenomenos, direttamente da Cipro. Guardate, Maurizio, con che classe balla. Ah, signori. Chi è il cantante qui? Chi è il cantante? È Daniele il cantante? Chi è che canta? Pedro? Pedro, è lui. Chi è il cantante? Chi è il cantante? Chi è il cantante? Eh, un cantante? In attesa del volo, in ritardo di due ore, qui si sta facendo una bella rueda, qui c'è guardando qualcosa, questo è l'angolo dei ballerini, quelli bravi, che fanno i ballerini bravi? Coppiano i ballerini più bravi, guardate che meraviglia, ecco il segreto, avete capito come fanno questi qui a imparare? L'aereo intanto decolla ma non è il nostro, andiamo a vedere, questo sono io, mi auto riprendo, vedo che razza però, ops scusate, non si vede nulla, il nostro aereo nel frattempo è in ritardissimo, due ore, guardiamo un po' l'orario che dice, eccolo qua, guardate, Antalya, Rotar, 21,40, due ore di ritardo e questi che fanno, ballano, guardate, dammele tutte, come dammele tutte? Daniele le vuole tutte signori, ma sentiamo un cipriota che si è mischiato nella, come ti spiego? Come va questa rueda? Non so, la sto imparando, perché è la prima volta, è difficile? No, è difficile, sai, dopo i primi passi, ma noto un aumento della pancettina, che succede qua? Non avrei mica mangiato le Pringles, vero? Ecco un Tommy ruedante, un bambino ruedante anche lui, questa la mandiamo in disperita però, perché non so il wireless e la merenda, la mandiamo sul mio profilo, dopo ti do l'indirizzo. La rueda dall'alto, signore, questa è tecnica. generale che si è passato, grazie a lei che si è servito, affianco le righe la mandiamo sul che, mira non scopero, grazie a lei che si è servito, ma anche lui che si è stato, mi ricco pare. Permite, avrei un video, Grazie sa fuori che ci vediamo, Samore, grazie a lei. Signori guardate che tecnica, sto riprendendo con due telecamere, guardate che meraviglia, con questa e anche con questa che la mia, sovra posizione delle telecamere, con due telecamere Doppia ripresa, doppia ripresa. Doppia ripresa su colui che chiama, Doppia ripresa, la ripresa della ripresa, guardate che meraviglia, la ripresa della ripresa, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Doppia ripresa, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. La gioventù protagonista. Doppia ripresa, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Doppia ripresa, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Sovrapposizione, guarda, Fabio Vindelli si vede due volte, guardate che meraviglia, si vede bene tre volte, guardate, questa è tecnica, questa è grande tecnica, sovrapposizione, guardatelo, Fabio Vindelli, meraviglia, padero di nave che naufragò, piedra rodando sobre si misma, alma doliente pagando a solas, de playa a solas, así soy yo, la linea recta che convergiu, perché la tua final vio. Grazie a tutti. Guarda che tecnica, guarda, 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 guard Fabio, Fabio, scusa la estimazione. Perché la tua al final vivi, perché la tua al final vivi.